La UIL ne è certa, con le gare regionali sul trasporto pubblico locale si penalizzeranno i lavoratori e si creeranno disservizi. Per questo ha proclamato per domani 24 ore di sciopero in tutta la regione, il terzo per quest'anno. È uno sciopero sul trasporto pubblico locale di 24 ore contro la riforma che sta facendo la regione toscana su questo settore, ovvero delle gare con molti meno soldi pubblici che porterà a breve, secondo noi, un forte esubero di personale. Una riduzione dei salari, perché forse gli integrativi cambieranno, gli integrativi salariali, e sicuramente anche un aumento tariffario. Quindi un peggioramento, secondo noi, anche per l'utenza, perché se si aumenta le tariffe chiaramente si vuole avere anche delle condizioni di qualità superiori che secondo noi non ci saranno. Per questo noi abbiamo detto alla regione di sospendere tutto, di riaprire un confronto, un po' come fanno tutte le regioni in Italia, tutte sono ferme. Invece la regione ha deciso di andare avanti con questa gara, che secondo noi sarà una carneficina a meno per i lavoratori di questo settore. A differenza delle altre organizzazioni, noi non abbiamo sottoscritto il 12 settembre di due anni fa l'accordo con la regione toscana e con l'allora assessore Cecco Bau. Un accordo che noi abbiamo sempre ritenuto fin dall'inizio insufficiente, sia per la parte economica, non si va a razionalizzare. È un accordo che creerà sicuramente una macelleria sociale tra i lavoratori, con parecchi esuberi.